Mi stanno succhiando tutta l'energia, non vale E voi trovate ragazzi, sono i miei channel, sono il vostro Mino, anzi siamo i vostri Mino e Mino Perché devo dire sempre Mino? E poi parla piano perché non si è capito Ah, parlo te No Eh? No Oh i ragazzi non lo vuole fare, vai, fanno Fallo, fallo Non sai che siamo qui tutto il giorno? Va bene Ragazzi guardate Sì però pulisci, nel senso vedi che ci sono le ragnatele Ragazzi è cresciuta la casa, guardate cosa è successo qua È cresciuta perché le case crescono Esatto, le case crescono Le case crescono Cresce dentro la bellezza Ragazzi guardate anche le torcine fatte Ho fatto il Guardate E voi dite, prima aveva 76 livelli, perché ora ce ne ha zero? Forse non vi siete nemmeno accorti È male male Perché ragazzi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto il L'XP Drain Detto da Ale, mi ha fatto vedere com'è Che semplicemente sono tipo nove grate di ferro messe insieme Sotto c'è un drum pieno di esperienza Poi c'è il servo col fluiduct che va al tank E questo dentro, questo qui è tutta la nostra esperienza Mia e Ila Ila scena tipo 30 Ancora nel mio Perché tipo non c'entrano più lì ragazzi, è pieno È pieno 16.000 su 16.000 E ora quando si vuole incantare, basta che tipo si va qua Si prema col tasso destro, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E io posso andare, vedi, così Fino Qui sta scalando Cala, cala 32 Perfetto E ora vedi, risale, perché da là giù Ora se Ila te va lì sopra Ti fa scendere ancora Comunque Mi puffiuga la mia niru Ora Ilai ha già la spada incantata No, veramente Cioè, ma era quella con durabilità Ah, però c'è 30, no? E c'è 30 Quei 30 spendili per la spada Troppo il tanto Vediamo un po' Imperial Sword Bisogna vedere, ora andiamo avanti Eh, questo qui, doppio Doppio? Cosa vuol dire? Ah, va scritta Va via Alla cieca Sharpness, unbreaking Eh, buono Cos'è sharpness? Non mi viene in mente Non mi viene in mente Quanto danno? 17 Ah, è quello però che fa aumentare il danno 17 di danno, buono Ora, questi due livelli, guardate ragazzi Vedete? Mi sono spariti Sono andato qua sopra Eh, io sì, farei quello Doppio È diverso dal tuo Sì Vabbè, allora se vuoi fare un altro No Ci fidiamo? Boh Vado? Non vado? Mi ha paura No Ma che enchanting sono? Facciamo già di qua Quello Cioè Ah, quello che fa danno contro i ragni Dell'antropodi E Knockback Knockback mi sa che è quello Che manda indietro Che manda indietro loro Ebbè, ma è buono Possiamo provare? No, grazie Ma stai fermo? Vieni O vieni O vieni Ma stai fermo un'ottima Vai, sto fermo Sì È quello Quando ti ho tolto? Un po' Comunque ragazzi Andiamo laggiù Alla Serra Perché 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 mi si è calda lo so Infatti non capisco C'è il vialetto Usiamo il vialetto Intanto abbiamo tipo Un po' di canne da zucchero Ce l'abbiamo messa tipo tutte dietro Infatti per fare tutte quelle librerie Ci siamo detti Visto che ora bisogna fare Dobbiamo portare avanti Anzi Finire E Pensando più in là Faccio vedere il mio La mia clipboard Clipboard Che è quello là? Ah c'è un cavallo Messo Eccolo qua Vedi Intanto Pagina 3 C'è il libro della botagna Perché la botagna Basta prendere un libro normale Mettereci accanto Nella crafting C'è il mio No un sapling Un sapling E diventare proprio il libro della botagna Per far capire come funziona Quindi Noi vorremmo iniziare la botagna Dopo la magica del crops E poi vabbè Portare avanti tranquillamente La thermal Che quella sarà lunga 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 Poi L'XVD è infatto Il drum Delle per l'XVD è infatto Eccolo qua Quello che adesso vogliamo fare L'Electrium seed L'Emerald seed Diamond seed E Quanta roba No tutti i seed Solo che ragazzi E ce n'è anche un altro di seed Qui mi faccio sempre male Ed è questo Il signal Ingot Che puoi fare il signalum Signal Signalum Perché ragazzi Se io scrivo signalum Mai sentito Vengono fuori queste cose qua Vedete Cioè ci sono anche signalum gear Che servono per aumentare la thermal Per fare il resonant Queste cose qua Mi spieghi come facciamo a fare il seme Se non abbiamo Eh? Come facciamo a fare il seme Se non abbiamo il lingotto C'è qui Quattro lingotti Guarda Quattro lingotti Vedi Se vai più in qua E spiega Perché la gente Eccolo qua Io ho fatto lingotti così Mettendo Fatto con l'alloy Esatto L'alloy ragazzi L'alloy Lo usiamo praticamente per tutto Perché È buono Serve No serve quello Perché se non ci sia quello Mi sa che la magical Come fai a farla? No? Sì La fai Vabbè Ci sono altri me Però Se state pensate Se sapete contare Diamond seed Emerald seed Silenum seed Electrum seed Sono quattro I posti sono tre Come vedete Beh ma togli Esatto Ce ne hai due o tre di Togliamo Infatti Ila Se per favore Puoi andare a prendere Il nostro carrellino Spostiamo Il Barrel Della terra Esattamente Quello laggiù Visto che è la terra Ragazzi Ci abbiamo Tanto Tanto Questo qui Ah 64x64 Io quello che è dentro la cesta Questo lo metteremo Laggiù Sotto 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 terra Nello scantinato Nel nostro magazzino E qui ci metteremo Anche Vedi se lo puoi fare Un altro barrel Perché va a sonnì? Perché sta Tagliando un cassino di legno Che ci avevamo Detto Non ce lo facciamo Sono pollo in giardino Sì lo so Sono entrati pollo in giardino Comunque Tagliamo questo Togliamo questo Togliamo questo Barrel Mettiamo un altro nuovo E qui ci mettiamo Uno dei quattro Poi vediamo quale E mentre l'area Fa lì Allora noi andiamo a prendere E a fare Magical crops Magical crops Andiamo a fare questa qui L'extreme fusion stone Che è Lander seed Poi L'iron seed L'iron seed Ce ne sono tante Sono suonate Lì per fortuna Perché ragazzi Non è spiegato Eh Esatto Cosa è successo Un po' Un po' fa Tipo due o tre giorni fa No vabbè Però Per quando uscirà questo video Sarà un mese No davvero ragazzi Sapete Da facciamo così È di là È successo che Per voi un mese Per noi due giorni Ci hanno dossato il server Ma Visto che Il nostro Grandissimo Dark Sa Metterci le mani Ha fatto sì che Prima di Che il server si bloccasse Per la dossatura Per la dossatura Insomma ha salvato il mondo Perché c'è stato un backup Prima Cioè Non so come ha fatto Ma ha messo un backup Prima che si chiudesse il mondo E quindi Uno ragazzi Quindi l'hanno levato Lui l'ha rimesso Ed è così Normale Nelle successioni Siamo tornati al solito Cioè Grazie Dark Ti vogliamo bene O anche Ale Non mi ricordo Ah no L'avevo già fatta Perché c'hanno zombie Dove Boh Controlla con F7 Non lo posso fare Comunque vabbè Noi facciamo altro ragazzi Vieni qua No Questa Dai dai Veloci 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 che voglio fare Tutti i semi Sto andando a posare la terra E a prendere un altro barre Scusa E ecco Facciamo Uno due tre E uno due tre Lo porto giù Oh Extreme imperio Lo zvicio Lo facciamo subito Sbam E qui tagliamo E qui tagliamo Quattro Quattro E quattro E quattro Eccoli qui Quattro di zvicio Di zvicio Finito? No Di zvicio Scusi ma i semi di terra Li possiamo buttare? Eh no Metti il barrel Da una qualche parte Sì ho capito Con l'essenza Ma i semi Ah i semi Sì 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 Butta butta tutto Perché la cesta È piena Non è che vuole Sì sì butta butta Tra gli altri no Questi le prendo Quindi prima di mettere Il buzzer No prima me l'emerald Via Quest'altro Devo darla a prendersi Non so perché Non ce l'ho Forse ce l'ho qui Devo tagliere questa robina Chi è? Ma con i semi Non ci si può fare nulla Con i semi Con i semi? No non credo Uno due Due tre Quattro E zvicio Attenzione Emerald Emerald Sì Che poi Io le stavo pensando Ma gli emerald E cosa ci servono? Non so Se te che le vuoi fare Vabbè Noi ce le mettiamo Sbam Io rubo il cassonetto Ah vai mettilo laggiù Fanneare Ma ce ne sono tantissime Capito Non ho voglia di andargli a qui Ok Ragazzi Vado a prendere un attimo Anzi Ci vediamo tra poco Perché vado a prendere Alte diamanti E poi c'è da fare Tutte queste essenze Per portarle da Minicio a Zvicio Quindi ci vuole un casino di cose Quindi ragazzi Ci vediamo tra poco Ciao Sono pronto Sei pronto? Ok Ma io non dicevo a te Dicevo al nostro Blaze Che ci ha raggiunto Ciao Blaze Ciao 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 Blaze Ciao Tutto a posto Tutto a posto Sì sì Purtroppo Blaze Non è tutto a posto Anche se Ve lo ripeto Questo video Lo vedrete Cioè Noi l'abbiamo Un mese fa Ciao Ciao Giacomo Di un mese fa Che ci guardi Ciao Anche Blaze Di un mese fa Perché questo video Devo far uscire Fra un mese Vabbè Però sono dettagli Perché un mese fa Cos'è successo a Blaze Blaze racconta Allora Proprio il 6 6 ottobre del 2015 Ragazzi Senghiati di questa data Proprio Una data importantissima Che è successo Al nostro Blaze Tutti diranno Si è sposato No Ancora è tipo presto Aspetta Calma Mi sono leggermente Proprio tranquillamente Rotto il polso Cioè Con tutto il braccio Tutto l'avabbraccio Ma che sarà mai No perché qui Ci stava un bel montaggio Io mi sono sinceramente Rotto i coglioni Proprio i coglioni Proprio i rocchi Ok Mentre Blaze vi racconta Io faccio i sild E sono arrivate le pizze Ah E io che vengo Vabbè Intanto facciamo I semi Facciamo i semi E sono arrivate le pizze Sì ma facciamo i semi Ce ne arrivate le pizze Facciamo i semi Allora Io mi sono detto Mi sono rottuto Leggermente l'avabbraccio In particolare Il radio è old In ben tre pezzi uomini Sì ma Io Io vi dico Li voleva regalare ai suoi fratelli Ma che me ne faccio Ma che me ne faccio Ce n'ho due Io ho fatto una rottura Proprio al base Sì Ora lo facevo bene La rottura Proprio non la facevo No scusa ripeti Di nuovo No vabbè tranquillo Ti sei rotto il braccio Ci dispiace tantissimo Infatti Riprenditi presto Per continuare A giocare con noi Allora innanzitutto Mettiamo Scusaci un attimo Allora Seme di Seme di Electrum Eccolo qua Ok Perfetto ragazzi Allora Diciamo che Andiamo a mangiare le pizze Andiamo a mangiare Sì Ma la serra è pronta Cioè Bisogna solo aspettare Che questi semi crescano E facciano altri semi Quindi poi si piantano La serra è pronta ragazzi Bisogna solo ora fare Nel prossimo Qui Sono qua No No non sono qui Sono qua Ecco Bisogna solo fare L'armatura di Zvicio Perché poi Cos'è che Cos'è che ci manca Per fare L'ultima pallina Cioè quella lì Di Master Infusion Stone Durabilità infinita Boh Bellissimo Questa Cos'è che ci manca Io volevo fare Senceramente Il fuoco Di Blades Di Blades appunto Di suo Il suo fuoco Che è uscito dal braccio Faccio Faccio uno scorriggino Eccolo E dentro un'ampollina Fa La chiude E fa Ah ma aspetta Ti serve la polvere di Blades? Eh? Ti serve la Blades Powder? Sì Eh io ho uno Spawner di Blades Ah Ok perfetto No perché io volevo Fare Tutta l'armatura Per ritornare nel neder A prendere La polvere Però se Appunto tanto Bisogna andare a trovare La Se vogliamo La fortezza Così anche per vedere Dov'è Ok va bene Eh io l'ho Allora la prendiamo da te Però questa cosa Nel prossimo episodio Quindi ragazzi Ci vediamo Presto Credo Sì prestissimo Dopo aver mangiato la pizza Dopo aver mangiato la pizza Quindi da Mina Mino E Blaze È tutto È vero Ila Ila Mino e Ila E Blaze È tutto Linea Allo studio Ciao ragazzi Ciao Iscriviti al canale Dai Tu Iscriviti Dai Mari 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 Ciao Tu Iscriviti 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 Iscriviti